verde con delle striature blu puffo in faccia è comparso con la sua borsa è arrivato in console e ha suonato per un'ora e mezza come un eroe stoico col suo giubbottino anti aria condizionata che è tipo meno 22. Temevo l'aria condizionata io ieri sera. Vabbè tutto bene ciò che finisce bene. A proposito Marco Santin oggi si fa vivo non si fa vivo? Proviamo a chiamarlo dopo dai allora ragazzi parte la isla il primo disco è quello dei gente de zona con Mark Anthony la cosa d'era proviamo subito a chiamare Marco Santin state con noi in diretta da Formentera è sempre sul disco piacerà questo disco di emilie sande che si chiama next to me a Marco Santin e secondo me sì ma chiamola lui rispetto alle boiate che di solito mandate in onda certo che mi piace ma mi eccolo qua senti che meraviglia tutta per te senti. Buonasera Formentera buonasera Formentera come va? Che tempo c'è? Molto bene molto bello tu sei rimasto in Sardegna hai cambiato destinazione? No no tanto so che dovunque io posso andare arrivo io mi troverebbe quindi io arrivo anzi mi sono rassegnato volevo appunto ti abbiamo chiamato per sapere dove sarai lunedì perché lunedì ti raggiungo però non dirmi lunedì ho un impegno di lavoro a Orgosolo sì sì certo va bene ci vediamo lì però prima passo da Macomer dalla caserma militare di Macomer e vuoi venire con me Andrea? Certo sì io vengo ma assolutamente ti seguo ovunque Marco abbiamo vissuto la serata di Andrea perché se ne parla qui in Sardegna eh so che ci sono stati decine di tentativi di linciaggio quindi è andata bene direi no? Sì è andata molto bene molto molto bene infatti ti aspettavo non ti ho visto non riesco a capire come mai non ti sei presentato no 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 c'ero 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 ero però c'era da prendere il bigliettino per linciarti e io ero il 116 e quindi ho detto vabbè vado a dormire si fa tardi qua ti dico solo che mi son fatto male da solo scendendo un gradino di 5 centimetri mi sono slogato la caviglia sei un vecchio ormai o un anziano vero un anziano vero peraltro senza badante anzi io volevo lanciare questa 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 campagna troviamo la badante a pellizzare perché secondo me ne ho bisogno io invece volevo chiedere secondo me ce ne sono una decina che tu vorresti come badante almeno di fronte a te proprio in questo momento di fronte a te loro non vogliono lui però esatto questo piccolo problema ma pagando come ben sai si può ottenere tutto no nella vita quindi ti stavo dicendo Marco noi abbiamo vissuto con te il primo giorno della tua vacanza ed è stata anche una cosa molto bella mi chiedevo come sono andati i restanti i giorni molto bella per noi chiediamolo a lui è stata una cosa molto bella Marco come è stato il tuo primo giorno di vacanza una roba molto bella ti faccio un breve riassunto stava perdendo la valigia questo l'abbiamo raccontato ha avuto per gli stari tra i maroni tutto il giorno ma io chiedevo i restanti i restanti giorni come sono andati no no bene bene ho già abbiamo già visto tre spiagge diverse non abbiamo ancora trovato dove fare l'uovo come si vuol dire però stasera stiamo nella spiaggia una spiaggia un po' di puzzoni diciamo la verità e non vi dirò il nome ma sono tutti un po' tu sei Marco Santin quello della Gialappas quello della televisione sono i tuoi posti e allora uno che lavora in televisione deve fare il puzzone per forza perché non è obbligatorio no Marco quelli di fianco a te torneranno a casa e diranno ero vicino a Marco Santini oggi questa cosa mi fa venire in mente proprio Formentera un posto famoso che c'era una volta che adesso non c'è più che uscendo mi ricordo che c'era una ragazzina che avrà avuto 14 anni si saliva su una specie di pedanina per andare via e lei era di fianco al telefono e io ho sentito le seguenti parole mamma sono qui da tre giorni non ho ancora visto un vip disperata e mi ricordo la tristezza che provai in quel momento vabbè comunque questo non c'entra niente ecco ma si può praticare no volevo chiederti questo si può praticare il vip watching lì in Sardegna in questi giorni? sì ti dico solo che oggi hanno è uscito dall'acqua dove nella spiaggia dove sono che ripeto non farò il nome ma secondo me è bellissare la salunga è uscito un anziano signore dall'acqua ma molto anziano eh urlando mitico mitico coccoluto questo hanno urlato oggi nella spiaggia e coccoluto era di fianco e giuro che non sto inventando nulla ce lo giuro questa è una scena bellissima un'oretta e mezza fa un anziano adesso basta coperto di alza basta cazzate però scusa Marco adesso basta parlare di tutte queste cose un po' frivole la missione per noi ce l'hai o non ce l'hai? allora io eh la missione dovrebbe essere impossibile giusto? difficile difficile se non altro facciamo una cosa non ho una missione difficile per voi ma ne ho una semplice semplice perché non chiudete perché non chiudete il programma oggi così in bello stile fate bella figura chiudete tutto tirate giù la Claire salutate la gente che ti forse senti senti che la gente è favorevole sento dei boati è una missione facilissima le uscite a testa altissima andate a casa andate a casa ti lasciamo qualche giorno per pensarci tanto lunedì pelizzari sarà da te lunedì solo da te aspettami va bene organizzo una bella spiaggia una spiaggia troviamo una spiaggia a Pustonia per lunedì va bene allora trovami una spiaggia dove si possa praticare il VIP watching mi raccomando con coccoluto possibilmente va bene mi organizzo allora sì certo mitico ricordate tutti insieme anche voi davanti mitico ciao Marco Santino ciao 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 ciao